Come sapete negli ultimi giorni è stata riaperta e si è concretizzata la prospettiva di un governo politico. Non risulta quindi più necessario formare un governo tecnico e ho rimesso al Presidente della Repubblica il mandato che mi aveva conferito. È stato per me un grande onore lavorare al servizio del Paese anche se soltanto per qualche giorno. Vorrei aggiungere soltanto un paio di altre cose. Primo ringrazio le persone che si erano rese disponibili a far parte di tale governo tecnico e ringrazio i dipendenti della Camera. Io avevo un ufficio alla Camera. Ringrazio i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che hanno consentito la mia attività, che mi hanno aiutato nella mia attività. Secondo vorrei aggiungere che la formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese, anche perché evita l'incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Esprimo quindi i miei auguri di cuore, di buon lavoro al governo che spero possa essere formato al più presto. Grazie e scusatemi se nei giorni scorsi sono stato un po' troppo silenzioso con voi. Grazie, arrivederci.